Ciao ragazzi, siamo tornati con Fuck Time e siamo qui pronti a rispondere alle vostre domande e c'è solo un piccolo problema quest'uomo non ha più una voce ma per quale motivo lo vogliamo dire almeno? non ha più una voce perché mentre tornavamo da Milano dove siamo andati a girare la nuova parodia che uscirà a brevissimo abbiamo fatto questa cosa qui NTV spit on the road sta parodia, lo senti come fa? vai H, vai H la riga che ti spacca vai H sì ragazzi sì, sì ragazzi sì sì ragazzi sì, ragazzi sono H questo beat compra in potenza ora tolgo questo jeans e mi lecchi questa lenza ha le massa nel posto lui è pelato come oronzo un cazzo di ponzo e tanto con la rima troppo grezza c'ho un sogno nella vita i capelli alla caparezza mi porto questa roba ma che edilizia diamo in cinque e puzziamo tipo sacchi dell'immunica ce n'ho una, inquadra Luca Luca lo vedete? è truccato come una make-up artist deve stare zitto come in The Artist lo seduto dietro con due palle da biliardo compro tutto lo spazio perché c'ho questo lardo l'opera continuamente non sono più su Youtube ma guarda solo Milv sempre su Badú ooooooooh Sì ragazzi, sì ragazzi Ma tu urli quando rappi? Eh, no io prima rappo, poi mi emoziono E poi tutti urlano lì comunque Ma comunque Luca senza voce ma risponderemo lo stesso alle vostre domande Perché non lo mogliamo un cazzo Non mogliamo un cazzo, non riesco a dire Cosa? Carapotta Ci stiamo Ci stiamo lavorando e lo so Che tu premi su questa cosa Tra l'altro un format che abbiamo pensato è già uscito il trailer E uscirà la puntata a breve Non sei contentissima? Guarda che noi ci stiamo impegnando tant'ora Stiamo costruendo tantissime cose che vedrete più avanti Con la mia voce sperando che torni Perché altrimenti faccio quello muto Aspetta ma come te l'ha fatta la domanda? Provate a leccarvi il lombelico inteso come il mio Guarda, guarda soli Voi devo leccare il mio o leccare? No io lecco il mio, il tuo non lo voglio usare Aspetta una scuzione ZARICA 1, 2, 3 Vieni qui, vieni qui Ho il pollice più bello Ho il pollice più bello No, devi stare fermo, non vado Vieni qua, vieni qua Mi ferma Ma tu sei più grosso L'ho capito, non vuol dire niente Ecco, l'ho preso, l'ho preso Se lo hai preso adesso Metto l'ho da vicino 1, 2, 3 Sono uscito Luca Sono quasi 15 anni che ci conosciamo E ormai sono quasi 8 anni che collaboriamo e lavoriamo insieme Sì va In questi 8 anni io ho imparato a conoscerti E ho scoperto che dentro di me ho sempre provato qualcosa per te Sempre Anche tu mi sa che provi qualcosa per me E comunque, mentre il tuo stomaco gorgoglia Il mio cuore continua a battere E più ti guardo nei tuoi occhi cerulei E più, più provo un sentimento Dico solo che l'ultima persona che ha mai detto Dio gli occhi cerulei non vive più Provo un sentimento Un sentimento vero Luca Io E' tanto che volevo dirtelo Ma insomma è riuscito Anche perché mi fa un po' schia Perché? Perché mi vergognavo Ma Luca, io Ti amo Non ce la faccio Ma per cazzo perché stavo rispondendo al bacio Voldemort Potter Voldemort Voldemort Potter Ricardium Pelosa Potter Ricardium Pelosa Potter Spesfumgatum Potter Alabama Per cazzo Ho bisogno di una borsa Ho veramente bisogno di una borsa Voglio una borsa Ho bisogno di fare shopping Non ti amo più Ho capito Ti amo Non ti amo più Ti amo Non ti amo più Ti amo Mi stanno arrivando Non lo vedi Non lo vedi che mi stanno arrivando Ah non ti sei rotta il succo di frutta Ah mi sono arrivata E mi so E comunque voglio una borsa Vai Senza fare cadere l'acqua Devi riuscire a fare quello che ha detto lei che non lo ricorda Vai Secondo me non è tanto difficile È ok Madonna solo a guardarla sto male Tieni Vai No mi viene da vomitare Vai Matt Mi viene da vomitare Vai Matt Mi schifo ragazzi Adesso mi schifo Tutto assolutamente buono Lu Lu Tu mattina 8 o 4 qua Ma va bene Mi raccomando Questo li devo Faccio solo serata Ma comunque dai Alle 9 sono lì Comunque non sono grasso Ragazzi guardiamo il mio video Faccio di viti Bibi Però alieno come ti chiami? Già viva I nostri amici terrestri vogliono sapere come rotti Ah ci vediamo Ma sei giapponese alieno cosa sa Rutta E questo era un rotto alieno Siamo per pesare Luca Dopo mesi e mesi di dieta Dopo mesi e mesi di allenamento Il nostro Luca è pronto Alla prova della bilancia Prego Questa è pazzissima Prego vada 90 mila Vada vada Ci siamo 87 87 andiamo a verificare signor giudice C'è un po' di puzza di piedi signor notaio Ma sono effettivamente 87 kg Non è che Praticamente sono 4 kg il corpo e 80 kg la faccia No 81 il corpo e 3 la faccia 81 la faccia e 3 il corpo Deve dimagrire signor Luca Solo ricordi Arrivederci Solo ricorderò La prossima puntata peserò 2 kg in meno Dichiarato in un mese